Ciao ragazzi, finalmente un nuovo video e questa volta vorrei parlarvi di come far crescere i capelli più velocemente, adesso io ho fatto già un altro video sempre su come far crescere i capelli, vi metto qui il link per andare a vedere il primo video, ed era sempre un integratore, l'integratore che vi facevo vedere nel primo video è questo qua, l'MSM della Unlife, con cui mi sono trovata comunque benissimo, poi andate a vedere. Altro integratore che ho provato e con cui mi sono trovata assolutamente bene è questo qua, l'integratore della Fito, dei prodotti della Fito per i capelli vi ho parlato già in un altro video, vi metto qui il link per andare a vedere tutti i prodotti che adesso io sto utilizzando per la cura dei capelli e che sono veramente fenomenali. Allora, questa qua si chiama Fitofenerol, credo che si pronunci, non credo che si riesca a leggere, però ve lo faccio vedere dalla scatola. Praticamente una confezione di questa all'interno ha 90 capsule, bisogna prenderne due al giorno e all'interno con vitamina B2, B5, B6, B8, C ed E, olio di borrage del zinco, quindi è un integratore, ha dentro tutti, all'interno tutte vitamine e elementi naturali, quindi comunque sia non va a fare male, però è molto buono sia per andare a ristrutturare i capelli che per farli crescere più velocemente. Io adesso lo sto utilizzando da circa due mesi e già ho visto i primi risultati. In realtà per avere un'idea precisa di come funzioni bisogna utilizzarlo per almeno tre mesi, però io ho deciso di parlarvene presto perché una confezione così costa 26 euro. Adesso però mi sono accorta in farmacia che c'è un'offerta e l'offerta è questa, cioè praticamente 1 più 1 ha 26 euro invece che 52, quindi vi conviene se siete interessati quindi ad andarla ad acquistare adesso perché appunto c'è questa offerta e tre mesi di attraimento completo, un mese e mezzo è in omaggio ovviamente perché è 1 più 1. Praticamente che cosa dice? che i test di consumatori risultati dopo tre mesi, miglioramento della capegliatura 95% dei tester e soddisfazione del prodotto l'80%. Ecco qua, è veramente un prodotto molto molto valido, io mi ci trovo bene. Rispetto all'altro ha anche le pastiglie più piccoline, quindi sono più comune da ingerire, le altre se ricordate le MSM erano molto grandi. Mi trovo benissimo, dice, integratore alimentare, forza crescita e volume e vi volevo leggere, allora sì all'interno ci sono tutti elementi naturali, vediamo se c'è scritto qua, sì eccolo, all'interno c'è anche il libretto, diciamo il classico libretto foglietto illustrativo, troviamo italiano, se ci riusciamo, sì eccolo. Allora, integratore alimentare, forza crescita e volume, con integratore alimentare specifico per la forza crescita di capelli e unghie, infatti c'è scritto anche che fa bene alle unghie, io adesso vi dirò la verità, a me alle unghie per il momento non mi ha fatto nulla, c'è scritto che bisogna provarlo per almeno tre mesi, però per il momento per le unghie non mi ha funzionato, però per i capelli sì e anche per, non so se è un effetto che ha dato solo a me, però anche per le ciglia, cioè le ciglia le trovo comunque più lunghe e più forti. C'è scritto appunto, consiglio, uso due capsule al giorno in un bicchiere d'acqua, quindi assolutamente questo è un prodotto che io vi consiglio, se lo volete provare, specialmente adesso perché è in offerta, quindi potete avere direttamente 26 euro provate tutti i tre mesi, quindi io vi consiglio di provarlo, è comunque molto valido, è un'alternativa all'MSM, essendo ovviamente adesso in offerta questo qua conviene più dell'altro perché 26 euro, vi ritrovate 180 capsule, invece l'altro sono 60 capsule per 16 euro, quindi ovviamente la convenienza è esponenziale. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se qualcuno di voi l'ha provato oppure se avete provato, l'ha integrato in altri integratori alimentari che funzionano. Ciao!